E se per una volta la preda fosse lo squalo, a volte il più temuto degli animali marini somiglia più a Davide che a Golia, ma a differenza del personaggio biblico fa una brutta fine. In questa battuta di pesca in Florida, infatti, il povero squalo preso a Traina non ha possibilità alcuna di salvarsi perché la sua predatrice cernia che aspetta sotto la barca può ingoiare una creatura di 1,2 metri in un sol boccone. E in questo incontro lo squalo ha la peggio quando incontra la cernia Golia che assomiglia più a un Godzilla acquatico che a un pesce.